Ragazzi, dopo nove ore di cammino siamo sulla vetta del Monte Lantola. Ecco laggiù il nostro amato Lesima. Ragazzi, siamo a Cappane di Cosola. Ecco Leo. Leo, sei pronto per la nostra passeggiata? Sì. Allora, dov'è il tuo zaino? Fammelo vedere. Ah, quello lì è il tuo zaino. E questo è lo zaino del papà, che poi è di la vetta della mamma, che me l'ha prestato. Allora, partiamo? Sì. Via! Leo, stiamo scendendo dal Monte Legna. Eh sì. Ecco il signorino comodino si fa portare a spasso, ma finché è discesa riesco ancora a portarlo. In salita no, eh. Già c'è uno zaino che pesa 108 chili. Allora, si sta abbastanza bene, perché non c'è caldo. Ci sono le nuvole. Vero Leo? Sì. Andiamo? Sì! Prima c'era un signore che andava molto veloce. Ci ha superato. Eh, noi andiamo pianino, pianino. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Piazza Fagliariari. Leo? Sì? Sei comodo? Sì. Va bene. Siamo molto in ritardo sulla tabella di marcia. Sì. Speriamo di farcela. Eh sì. È un'impresa, eh? Eh sì. È un'impresa. Però dai, ce la faremo, vero? Sì. Dai. Saluta a tutti. Ciao. 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 Alla lilla, lilla. Alla lilla, lilla. E il mio bimbo è questo qua. Io vado giù. Dammi un bacio. Un bacio. Sì. Siamo arrivati a Campania di Carrega e poi adesso siamo entrati nel parco dell'Antola nel comune di Gorretto, provincia di Genova. Leo è un po' stanco, lo sto portando io, mentre lui si mangia un bel panino. Vero Leo? Eh sì. Stiamo andando su al monte Antola. Eh sì. Prima c'erano due cani, ci hanno superato. Eh sì. Ma hanno le gambe più veloci. Eh sì. Eh sì. Leo, sento ridere, no? Leo. Sarà andato su? Vado su. Sono qua. Come qua? Qua? Ah, sei lì. Eh sì. Eh sì. Eh sì. Leo, stiamo andando sul monte Antola. Eh sì. Che è su di là. E poi dove dormiamo? È una casa. Nel bosco? Sì. Ciò, puliamo il nasino. Ed ecco voi un bambino salterino. Vi sembra un bambino stanco questo? Manca un chilometro sette al rifugio Antola. Dai, vai. Bravo mio bambino. Ma non bacione alla mamma. Ciao mamma. Ragazzi, dopo nove ore di cammino, siamo sulla vetta del monte Lantola. Ecco laggiù il nostro amato Lesima. Ecco tutte le montagne. Laggiù c'è il mare. E qui, ma qui c'è un bambino. Come ti chiami? Le tanti. E quanti anni hai? Tre anni. E sei partito da Capanne di Cosola e sei venuto fino sul monte Antola? Eh sì. Wow! Sei un campione. Batti un 5. Batti un 5, Leo. Senti, mi fai vedere dove è il lago? Sì. Dai, fammelo vedere. Dov'è? È là, guarda. Vieni a vedere. Eccolo là, il lago del Brugneto. Fammelo un po' vedere. Sì. Dove? Non lo vedo. Ah, là. Bene. E adesso dove andiamo? Torniamo a casa? No. No? Cosa facciamo? Torniamo in un'altra casa. In un'altra casa. Andiamo al rifugio Parco Antola, che è qui sotto. Eh sì. Hai fame? Sì. Sei stanco? No. No, perché sei un campione! Sì. Aspetta che saluto anche io gli amici. Ciao a tutti! Siamo sul monte Antola! Sei felice? Sì. Mi dai un bacione? Sì. Sei il numero uno, Leo. E chi sei tu? Eh, io sono il papà di Leo. Siamo la ditta, Leo e padre. Abbiamo fatto questa impresa eccezionale. Dai, adesso andiamo a farci una bella doccia e a mangiare. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dai, salta tu, eh. Uno, due, tre. Leo, abbiamo trovato un cartello. Sì. Leo è arrivato qua con papà. Ah sì, c'è scritto così? Sì. Bene, siamo arrivati fin qua. Andiamo avanti? Sì. Vai, inizia ad andare avanti tu. Ma che bullo. Amici, piace fare. Lo sapete che io ho visto un cavallo con papà? Sì, abbiamo visto un cavallo. E dopo tanto camminare, dove siamo arrivati, Leo? A Torriglia. Siamo a Torriglia. Piacere fare ali, ali. E il mio bambino, anni tre, si è fatto da capanna di cosola a Torriglia. Vero, Leo? Sei stato bravissimo. Eh sì. Cosa sei tu? Il mio? Campione. Esatto. Amici, piace fare ali, ali. E adesso andiamo a mangiare che cosa? Il gelato. Il gelato. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.